ciao sono magio benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video su out of action un fps davvero molto promettente che adesso andiamo a vedere insieme basta chiacchiere allora abbiamo varie possibilità di scelta del personaggio anche nella demo abbiamo bison 150 di vita e 100 di difesa snare resistance insomma hanno i loro perché tutti i vari personaggi qui abbiamo l'idra che ha fra 100 e 200 di vita 100 di difesa incrementa la degenerazione la difesa dragon insomma c'è da studiare ce ne sono di cose da vedere abbiamo il dragon poi ci fa scegliere la sidearm che può essere un fucile a canne mozze la pistola un revolver un revolver piercing ammo quindi proiettili perforanti con il laser sight arma primaria al soul trifle con l'iron sight ma anche si sempre a piercing a bestia perchè anche qui si può sbloccare 8 mila cose da da poter fare con il nostro personaggio sono dei vantaggi che hanno no quindi posso avere dei vantaggi su una vera riduzione della velocità di slowing effects posso rimuovere i danni da caduta insomma a seconda di quello che scelgo con recovery abbiamo una vita che rigenera passivamente mettiamola perché no adesso scendiamo andiamo a morire con messo il massimo del livello di difficoltà dei botti in questa che è una demo quindi dove si presente già un gioco che fratte in shell shading ha una grafica a mio avviso molto carina ok primo test bot è andato a vedere le margherite dal lato sbagliato della terra ma abbiamo fatto altrettanto sono stati implosi ma posso mettere più di questa allora voglio anche a kimbo voglio due pistole per volte per volta voglio le ricariche anche fa il cracker voglio non so assolutamente questo utilizzo eccoli qua no ho usato il passo sbagliato non volevo a kimbo pistols due pistole per volta uh che rollata 206 nei denti no ho finito le armi finito le munizioni no maledizione comunque fa un dolo incredibile da la pistola se vai di a kimbo ovviamente hai solo le pistole non hai un'arma primaria sono queste le tue armi primarie però caspita fanno un male incredibile coltello e si lancia il tuo rumore ha preso preso no ma ha preso lui ok livello di difficoltà alto vuol dire che lui mi piglia in testa o tre volte l'ho preso un paio di volte per insomma andare con i coltelli non è il massimo della vita ma prendiamo che non veniamo disabilitati abbiamo un bel smg con il laser site vai buttami vieni qua di sotto mamma e rolla ho usato il tasto sbagliato evidentemente ho evidentemente usato il tasto sbagliato ho capito come si lanciano i firecracker con la città a posto tutto bene tutto bene invece di dragon proviamo a prendere qualcosa di più grosso il reno la spada voglio la spada tutta la vita voglio la spada dov'è la spada eccola vado di katana rompe il vetro questo no ma ha incendiato i proiettili incendiari maledetto ora andiamo a vedere cosa c'è più su allora intanto voglio i proiettili incendiari anch'io perché se no non va bene dove sono non è vero non ci sono come ho fatto a prendere fuoco allora eh ma guardate non che non voglio essere invece voglio la soul trifle vai ora me ne vado su se riesco voglio vedere su che c'è questo è uno trasparente oh ma guardate c'aveva la perk per essere invisibile oh mi lancia col te oh ma dov'era ma chi mi ha ammazzato ma guardate comunque c'è veramente tanta tanta scelta di roba eh aumentiamo la vita ma ancora quello trasparente ragazzi ma quello è troppo cioè lo voglio anch'io quello invisibile contro i botte è inutile quindi è lui che mi apre ovviamente perché io non vedo altro vabbè vabbè non lo vedo ma cos'è che mi ha fatto danno ora cos'è cosa ho preso danno ho paura a fare qualunque cosa ora è normale ho ucciso un test bot non so come cosa l'ho fatto a ucciderlo ero fermo bella spraiata a caso ma di che son morto di cosa ah bolt action rifle voglio quello ok diciamo che fa molto danno vai preso morto madonna diamo un higher place io mi va ahia vai madonna one shot a questo oh ma questo è grosso vai ma ha ammazzato lui mamma mia il fucile da cecchino è roba vabbè ora ovviamente qui ma è l'ambiente più adatto il target painter il soppressore dai io lo sopprimo ora il prossimo mi arriva incontro quanto questa è la mappa molto stretta però li beccherò a 200 metri di distanza minimo tre volte che mi faccio male quando faccio male cioè fa un suono che non promette nulla di buono mamma col coltello mi stava tirando quello invisibile ma che sei un pazzio per davvero voglio fare anche quello invisibile qual'è però neanche sicuro ci sia c'è mi sono inventato quello invisibile ghost andiamo di ghost non so come si attiva sta cosa però ma è come si attiva è di suo dopo un po' di secondi nessuno mi... no vabbè ciao ora arrivo e gli tiro un colpo di fucile a pompa in testa ovviamente mi si sente passi per carità ma non divento... ma guarda te e lui come faceva a sapere che ero lì eh? eh guarda ma... ma... ma spasato la... il mio essere trasparente eh ma ora sono di nuovo trasparente ha caro il mio amico ma te chi t'ha detto che ero qui? oh oh incredibile ma direi che possiamo ampiamente interrompere qui questo video introduttivo su out of action anche perchè siamo andati out of action sono molto curioso di leggere nei commenti cosa ne pensate di questo che chiaramente è una demo di un gioco che sarà poi pvp quindi giocherete contro le persone e non avranno più questo livello di intelligenza artificiale un po' ridotto e un po' troppo avanzato per certe cose cioè mi vedevano quando non mi dovevano vedere e non mi vedevano quando mi dovevano vedere quindi chiaramente le persone lavorano diversamente ma l'idea di avere tutte queste perk, tutti questi personaggi e la grafica vi piace? fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao